L'assessorato toscano al diritto alla salute ha stilato la proposta di legge che obbligherà la vaccinazione per l'inserimento dei bambini agli asili nido e le scuole materne. Verrà proposta alla prossima riunione della Giunta Toscana e poi passerà al vaglio del Consiglio regionale. Lo ha annunciato l'assessora alla salute Stefania Saccardi. Se la legge passerà, la Toscana sarà la seconda regione italiana, dopo l'Emilia Romagna, a introdurre la norma. La proposta sta facendo discutere, ma l'assessora Saccardi ha sottolineato il problema che le vaccinazioni stanno scendendo sotto la soglia raccomandata. E questo, secondo l'assessorato, fa correre il rischio di incidere sull'immunità di greggia essenziale per garantire la salute delle persone. Non vogliamo certo aspettare che scoppi un focolaio o un'epidemia per intervenire. Credo che sia un principio di buon governo intervenire per evitare che le epidemie si manifestino, non per intervenire correndo ai ripari quando le epidemie scoppiano. Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, attraverso una nota, ha spiegato che intende aprire una vera e propria campagna di ascolto sui territori, perché quella dei vaccini è una sfida culturale e sociale, prima ancora che politica.